ci sarà molto basso e quindi un vero mercato dei crediti non performing non si potrà sviluppare bene che ci siano o non ci sia la bad bank, che ci siano o non ci siano le culturalizzazioni. Credo che questo debba essere il prossimo obiettivo a cui si dedica l'attenzione del Governo. Grazie. Grazie onorevole Buttiglione. Scritto a parlare il deputato Alberti. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Nel mio intervento mi soffermerò principalmente, anzi quasi esclusivamente, sulla questione della riforma delle BCC. Allora, come è nata questa riforma? Da quando è arrivato il provvedimento in Commissione, io e i miei colleghi del Movimento 5 Stelle avevamo subito palesato i nostri timori, i nostri perplessità su questo provvedimento. Voi direte, sai che novità il Movimento 5 Stelle che dubita su un decreto del Governo Renzi. Però abbiamo dovuto, io anzi, io personalmente ho modificato un po' la mia percezione su questo decreto. Infatti all'inizio avevamo inteso, e questa comunque continua ad essere una chiave di lettura ancora valida, dicevo che avevamo inteso che questa riforma fosse stata imposta dal Governo sulle banche di credito cooperativo. Imposta secondo una forma di ricatto. o vi fate voi un'autoriforma, come dico io, oppure fate la fine delle popolari. Vedersi l'ultimo decreto sulle banche popolari dell'anno scorso. Poi però hanno incominciato a scriverci alcune banche popolari, soprattutto in contrasto a quella che era la visione unica, il pensiero unico portato avanti da Federcasse. Federcasse, l'associazione che dovrebbe rappresentare la stragrande maggioranza delle banche di credito cooperativo, che ha scritto appunto questa autoriforma che poi è stata presa dal Governo e praticamente attuata al 99%. Queste mail ponevano alcuni dubbi sull'onestà di Federcasse e dei dirigenti di Federcasse. E abbiamo cominciato, io personalmente, a dubitare anche di Federcasse, nonostante Federcasse fosse venuto in audizione in Commissione Finanze a raccontare che il sistema del credito cooperativo è solido, è sano, non ha bisogno di alcuna riforma e ha portato alcuni numeri, la stessa Federcasse. Il Governo continua a sostenere anche oggi che è necessaria una riforma delle banche di credito cooperativo per renderle più stabili, per essere più competitive. Un po' cozzano le visioni tra Federcasse e la visione del Governo e della maggioranza. Ma a quel punto, sinceramente, io mi trovavo un po' in difficoltà. A chi credere? A Federcasse che contraddice in alcuni punti il Governo stesso, ma che comunque approva il decreto sulla riforma, oppure al Governo, alla maggioranza, che dicono guardate che questa riforma proviene dal basso. L'hanno scritta le BCC. Ora cosa abbiamo fatto? La cosa più semplice. Abbiamo scritto ai direttori delle banche di credito cooperativo. Io ho mandato una mail, io sono partito dal mio territorio, ho mandato una decina di mail alle banche più vicine a dove abito. E adesso vorrei leggervi la risposta di un direttore di una BCC. La leggerò tutta, perché è importante leggerla tutta. E vi prego veramente di stare ad ascoltare. Onorevole Alberti, non ho il piacere di conoscerla e nemmeno conosco la sua area politica di appartenenza, ma la ringrazio da subito per la sensibilità che dimostra sulla problematica di cui è all'oggetto e soprattutto per la chiarezza e la perspicacia dei quesiti che pone. Questo l'ho letto non tanto per far vedere quanto sono bravo, ma per farvi capire che tra me e chi scrive non c'è alcun legame. Le anticipo per correttezza che le risposte ai quesiti e le argomentazioni che formalizzerò a supporto e che da oltre un anno ho cercato di segnalare in ascoltato agli organi associativi del credito cooperativo, legacy Federcasse, non rispecchino il punto di vista maggioritario delle esponenti delle BCC italiane. Anche perché il nostro mondo, purtroppo, è composto da realtà assai disomogenee, sia in termini dimensionali, ad esempio banche con 5-10 sportelli, banche con 40-50 sportelli, oppure banche con patrimonio da 20 a 50 milioni, banche con patrimonio da 100 a 200 milioni, una quindicina oltre 200 milioni e altro ancora, sia in termini di virtuosa ed efficace gestione. Ad ogni buon conto, in principali aspetti positivi e negativi che connotano le BCC italiane, penso si possano così sintetizzare. I positivi. Banche locali, struttura ultracentenaria, vicine alle fasce più deboli e alle PMI, agili e snelle. Durante gli anni recessivi post-2008 si sono distinte per un forte supporto ai rispettivi territori, anche sostituendosi, non sempre in modo appropriato, peraltro, alle banche di grandi dimensioni. Aspetti negativi, rischio di autoreferenzialità degli esponenti di governance, strutture centrali, sia associative che imprenditoriali, molto costose e inefficienti. Il grosso problema sta proprio nelle strutture di vertice. Queste dovrebbero essere sane, efficienti e supportare in modo adeguato e virtuoso le BCC nell'ambito di una organizzazione a rete che potrebbe consentire loro di operare con servizi centralizzati validi e adeguate economie di scala e di scopo. Viceversa, si sono ripiegate su se stesse con una visione che privilegia il potere del comando, anziché l'ammissione del servizio. Dettata da una classe dirigente, la chiamerei oligarchia cooperativa, che sostanzialmente impera da oltre 25 anni. Il supporto dato ai propri territori di riferimento e quindi al peso delle BCC negli ultimi dieci anni è riuscito ad attenuare molti disagi e problemi alle micro e piccole imprese, ma al tempo stesso ha comportato un rilevante deterioramento degli attivi di queste banche, che svolgono quasi esclusivamente attività tipica di intermediazione, raccolta da famiglie, impieghi, cioè finanziamenti, alle famiglie imprese. Molte di esse, secondo Banca Italia circa un centinaio sui 360, si trovano ora con livelli patrimoniali troppo bassi e o con asset di crediti deteriorati non adeguamente svalutati. Questa problematica, unitamente alla filosofia finanziaria attualmente imperante in tutto il mondo, tra parentesi Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e di riflesso Banca Italia, chiusa parentesi, che vuole perseguire in tempi rapidi un drastico ridimensionamento del numero delle banche. Ha indotto le citate autorità, fisicamente nella vesta di Banca Italia, a richiedere un urgente intervento in questa direzione. Ho fatto questa premessa per consentirle di avere un quadro di riferimento effettivo del perché si vuole questa riforma, dopo quella delle banche popolari, chiusa parentesi, ed anche per evidenziarle la mia convinzione che tutto quel che è stato predisposto ha precisi connotati machiavellici, finalizzati a perseguire l'obiettivo sostanziale di smantellare in tempi celeri il credito cooperativo, anche se in evidente e clamorosa violazione di alcuni sacrosanti profili costituzionali, quali quello della cooperazione, articolo 45, quello inerente alle iniziative economiche e alla concorrenza, articolo 41, e quello riferito alla libertà di associazione e non articolo 18. Ancora oggi mi chiedo come sia possibile in un Paese che si fonda sui valori della libertà e della democrazia perpetrare un disegno tale per cui, nell'intento di curare e sostenere un gruppo di realtà che grosso modo rappresentano il 25% del totale delle BCC, vengono costrette anche tutte le altre, senza sostanziali possibili alternative, ad aderire, rispondendone in solido e senza possibilità futura di recesso, ad un gruppo bancario. Tra parentesi devo sottolineare che ovviamente la facoltà di recesso è stata inserita ma di fatto è inapplicabile. Riprendo con la lettera. Da un gruppo bancario dove la capogruppo, A, sarà una SPA, B, verrà partecipata dalle BCC ma contemporaneamente le controllerà in modo permanente e drasticamente invasivo, in quanto il gruppo dovrà avere chiari connotati di consolidamento contabile nel rispetto della normativa a tal proposito vigente. C, sarà potenzialmente esposto in futuro ad attenzioni ed appetiti esterni con finalità sicuramente diverse a quelle originarie del credito cooperativo, dal momento che Banca Italia raccomanda di prevedere la possibilità che le BCC possano scendere sotto la soglia di maggioranza partecipativa. E' tenuto realisticamente conto che potrà risultare un ghiotto bocconcino, il terzo gruppo bancario italiano, ad un costo sostanzialmente risorio. Ricordiamo che il capitale è previsto, è solo di un miliardo di euro. Se il fine vuole essere quello di mettere in sicurezza le BCC in difficoltà, la modalità con cui lo si vuole perseguire mi sembra quantomeno discutibile, se non addirittura paradossale. Oppure volendo pensare male, il vero disegno è quello di fare in modo di consegnare questo comparto, storicamente radicato nei territori italiani, in mano a interessi o esponenti, con ben altra forza, intenti e vocazione. Della way out ogni giorno si parla, sembra diventata la favola del momento. Evidenzo alcune considerazioni. Primo, non mi soffermo sull'entità dell'aliquota del 20%, inerente all'affrancamento delle riserve indivisibili. Dico solo che trovo paradossale che per mantenere l'autonomia giuridico-imprenditoriale un'entità debba pagare. Capisco la necessità del Governo di fare gettito, ma questa via mi sembra più ricattatoria che garantista. Due, il fatto che venga prevista solo per poche BCC con patrimonio di almeno 200 milioni e non per tutte è quantomeno discutibile e si commenta da sé. Tre, qualora gli emendamenti preannunciati dovessero consentire indirettamente anche alle BCC più piccole di beneficiarne? Mi domando come sarebbe percorribile ed esercitabile una simile opzione in soli 60 giorni. Prevederla, ma al lato pratico, non consentirne l'autuazione, la assimilerebbe ad una doppia prese in giro. Stesse cose che dicevamo, magari il Vice-Ministro si ricorda in Commissione. Infine, l'affrancamento delle riserve indivisibili, prospettato da Way Out, viene considerato da molti sostenitori della riforma e fra questi molti farisei della cooperazione, che si stracciano le vesti gridando allo scandalo, come una palese violazione del dettato costituzionale. A tal proposito, domando, obbligare tutte le BCC a sottomettersi in solito con i propri patrimoni, riserve indivisibili comprese, affidando il proprio futuro senza via d'uscita ad una SPA potenzialmente aggredibile e conseguentemente governabile dall'esterno, non è forse peggio? Andiamo avanti. Perché Federcasse si preoccupa di far blindare il più possibile la riforma dalla stessa in larga parte concepita per evitare possibili vie di fuga? Se, come sostiene, è il frutto di un ampio lavoro condiviso con tutte le BCC, non dovrebbe nutrire particolari timori per eventuali disserzioni. Il suo comportamento e le sue preoccupazioni lasciano pertanto trasferire chiaramente come stiano effettivamente le cose ed evidenziano inequivocabilmente i metodi subdoli ed ipocriti con cui ha condotto e gestito la stesura dell'autoriforma, come voleva si dimostrare. Ma questo è forse uno dei pezzi più belli. L'evidente autoreferenzialità dell'attuale classe dirigente associativo imprenditoriale, anche grazie ad una corte e selezionata politica di distribuzione delle poltrone, i massimi esponenti attuali sono maestri in tal senso, da un lato ha consentito di consolidare il proprio potere dirigista sul movimento e dall'altro, purtroppo, le ha permesso di promuovere un processo di graduale inefficientamento e danno di un discreto numero di BCC, sostanzialmente ridotte a passive strutture periferiche in attesa di eventi e di disposizioni comportamentali in cui esponenti vivono in un quotidiano desiderio di de-responsabilizzazione che vorrebbero imporre a tutti. Ma non tutte le BCC sono nella condizione di dover tacitamente e passivamente assistere dalla propria dipartita. Ci sono anche quelle, ufficialmente poche, ma potenzialmente molte, che si agitano e si dibattono per evitare il proprio concentramento nel campo del gruppo unico, magari con il motto «la cooperazione rende liberi» e per seguire percorsi alternativi, anche se non ritenuti ottimali, ma considerati il minore dei mali, quale la way out, diretta o concordata. Federcasse lo sa e ne teme le potenziali penalizzanti conseguenze rispetto al proprio disegno. Sa benissimo che, in mancanza di vincoli specifici, le BCC più grandi e o più efficienti e o con esponenti intellettualmente onesti e liberi da impegni di poltrona potrebbero decidere, al momento opportuno, di svincolarsi dall'obbligo di aderire ad un gruppo e di farsi dirigere e coordinare da una SPA, adottando il percorso alternativo della way out con lo spin-off del ramo bancario in una SPA, che se non altro consegnerebbe loro di mantenere il potere di governance in capo alla cooperativa originaria. A quel punto verrebbe messa fortemente in discussione la stessa solidità e capacità prospettica del gruppo bancario unico, che potrebbe ritrovarsi quali aderenti le BCC meno solide e meno rispondenti patrimonialmente, oltre a quelle governate dagli esponenti direttamente collegati all'attuale potentato oligarchico che regge il ponte di comando. Sempre più sono convinto che solo la politica vera, quella con la P maiuscola, possa salvare il movimento del credito cooperativo. Come? Qua ci sono alcune proposte. Uno, smarcandoci dal potere concorrente che vuole smantellare acriticamente tutto quello che è piccolo e potenzialmente più fragile. Due, salvaguardando le realtà che potenzialmente possano garantire stabilità e coesione sociale tra queste e le BCC. Tre, attivando una forma, una riforma, che persegue un effettivo efficientamento del credito cooperativo e non il suo smantellamento, quindi prevedendo un ragionevole ridimensionamento numerico delle BCC. Possiamo essere anche d'accordo. La possibilità e non l'obbligo per le BCC, che lo vorranno, di aderire ad uno o più gruppi bancari cooperativi, con maggioranza del capitale inderogabilmente in capo alle BCC, però. La facoltà di sostegno reciproco, entro certi limiti, onde non compromette la singola stabilità delle BCC nell'ambito della mutualità e solidarietà dei veri valori cooperativi. L'obbligo per le BCC di dotarsi di organi di gestione non flettorici, quindi snelli e numericamente contenuti. L'obbligo per le BCC, che non rispettano i certi parametri oggettivi, di sostituire i propri esponenti di governance con verifiche annuali. Tutti argomenti che possono essere discussi, se ci fosse stata la possibilità in Commissione. Per quanto ovvio, si renderà inderogabilmente necessario ed urgente sostituire l'attuale classe dirigente centrale sia in sede associativa che imprenditorale con nuovi esponenti e espressioni delle BCC più solidi, efficienti e virtuose. Ancora una volta, questo direttore punta l'attenzione sulla governance delle singole BCC e non su una questione di stabilità delle singole banche. In conclusione, per non correre il rischio di non dare a integrare il riscontro ai quesiti e ai posti, richiamo qui di seguito i passaggi interrogativi della sua mail e le rappresento le mie sintetiche osservazioni. Andiamo velocemente. Le decisioni adottate da Federcasse sono il frutto del lavoro di una classe dirigente che non si pone come obiettivo vero la messa in sicurezza del credito cooperativo, ma il consolidamento dell'accentramento delle potenzialità patrimoniali e prospettiche di relazione delle BCC, a favore di pochi e selezionati esponenti che si ritroveranno in mano il potere di direzione e coordinamento delle stesse e con il rischio che questo potere possa passare in breve tempo a potentati esterni portatori di interessi ben diversi. Banca d'Italia non fa altro che perseguire le linee direttrici dettate dalla Banca Centrale Europea sull'onda delle indicazioni che negli ultimi anni il Fondo Monetario Internazionale ha sistematicamente emanato, ma che non sono in evidente e clamoroso contrasto con il dettato costituzionale italiano. Andiamo avanti. Purtroppo ancora oggi nessuna BCC conosce effettivamente e integralmente il testo della proposta di autoriforma depositata a suo tempo dall'autorità di governo di Federcasse. Tutto quello che si conosce è il frutto delle comunicazioni ufficiali del governo e del Parlamento, del testo del decreto di riforma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, delle memorie di Federcasse e Banca Italia depositata alle audizioni alla Camera, oltre che di quanto pubblicato sulla stampa. Ponevo anche una domanda diretta specifica che leggo. Ritiene inoltre che per far confluire tutte le BCC sotto i 200 milioni di patrimonio netto in una holding, avente natura di società per azione, fosse uno degli obiettivi originali dell'autoriforma. E la risposta è. Se per autoriforma intende quella predisposta da Federcasse, ribadisco che il vero obiettivo di quest'ultima è il mio modo di vedere e per le motivazioni in precedenza addotte, obbligare tutte le BCC, anche quelle di maggiori dimensioni, ad aderire ad un unico gruppo e di fatto trasformarle coattivamente da associate controllanti libere e autonome in partecipanti controllate in ambito consolidato e per poter disporne a piacimento nell'ambito delle finalità della classe dirigente di riferimento. Un'altra domanda. Ritiene altresì che il cosiddetto way out che obbliga le BCC ribelle a trasformarsi in vere e proprie SPA sia la struttura migliore per affrontare e risolvere i problemi del settore. Risposta. Assolutamente no. È un sostanziale ricatto per coloro che vorranno scegliere il minore dei mali, pagare per non farsi scippare la BCC, pur dovendosi poi snaturare con la procedura dello spin-off e dar vita ad una SPA comunque esposta ai rischi indicati nel quesito sottostante. Non teme l'ingresso di capitale ai soci esterni al mondo cooperativo e che questo possa snaturare la funzione mutualistica della banca cooperativa. Risposta. È un rischio molto serio e per nulla remoto. Soprattutto se a guidare e governare il processo di riforma saranno coloro che ne hanno predisposto il progetto. Come realisticamente tutto lascia a prevedere. Un'altra domanda. Ritiene che i problemi paventati dal governo per quanto riguarda la stabilità del settore bancario siano credibili e imputabili in parte le BCC. Risposta. Il mondo delle BCC ha le proprie colpe. Alcune molto gravi. In tal modo da favoreto ha vallato le richieste di intervento e di riforma di cui stiamo discutendo. La crisi congiunturale degli ultimi anni ha poi contribuito ad infantizzare i punti deboli del credito cooperativo. Quindi una grande mea colpa deve venire dal nostro interno. Anche perché purtroppo paradossalmente la debolezza attuale e prospettica di molte BCC è diventata la forza incontrastata di attuali referenti nazionali. Anche in questa risposta è vero. Non è tutto oro quello che luccica. Ci sono delle colpe. Le ammettono. Ma punta ancora l'attenzione sui referenti dell'associazione delle BCC e chi effettivamente governa all'interno di questa associazione. Quali soluzioni alternative proporrebbe per risolvere questi eventuali problemi? Ripensere un attimo ai valori costituzionali della libertà di impresa e di associazione e non. E nel rispetto di questi salvaguardare l'attuale assetto delle BCC, favorendo un ragionevole ridimensionamento numerico e al tempo stesso consentendo a quelle che lo desiderano di potersi raggruppare e coordinare sotto una o più capogruppo indirogabilmente partecipati in maggioranza delle BCC aderenti. Parallelamente attivare tutto quanto necessario e opportuno per fare in modo che le BCC più virtuose, oggettivamente individuate, divengano un benchmark di riferimento per tutte le altre. Al tempo stesso esprimono una classe dirigente a livello associativo e imprenditoriale con la contestuale rimozione dell'attuale. Con volontà, buona fede, onestà intellettuale ed anche disponibilità al sacrificio da parte di tutti gli attori coinvolti, in primis personale, dipendente e rappresentanza di sindacali, per un obiettivo prospettico comunemente condiviso. Sono certo che il credito cooperativo potrebbe diventare, non dico il fior all'occhiello, ma comunque un buon esempio della osticata rinascita italiana. Conclude il Direttore. Perdoni gli eccessi dialettici e i ditoni, a volte troppo accalorati. Sono il frutto del violento contrasto del mio stato d'animo, che ormai quotidianamente si dibatte fra l'entusiasmo di una professione che amo e in cui credo ho quasi 60 anni, e l'amarezza di un realistico e probabile imminente smantellamento del lavoro e dell'impegno di generazioni di uomini e di comunità. Per rinnovare il mio più sincero ringraziamento per l'attenzione che sta dedicando la nostra riforma, le auguro un buon lavoro e la saluto con viva cordialità. Presidente, all'interno di questa lettera c'erano molti punti su cui nemmeno noi sposiamo in toto, ma su cui si poteva ragionare. La nostra domanda è perché il Governo ha voluto ascoltare solo i referenti di Federcasse e non, certo era un po' complicato, però una rappresentanza anche di queste BCC. Come questo direttore di banca, sicuramente dirigente, direttore generale di una delle BCC, ce ne saranno sicuramente molti altri che la penseranno nella stessa maniera. E quindi oggi spacciare questa riforma, questo decreto, come una riforma che proviene dal basso, cioè che proviene da 360 passi a BCC, è una menzogna. Questa riforma deriva, proviene esclusivamente forse da 4-5 teste che fanno parte, che sono a capo della Federazione delle BCC, che comandano, controllano e impongono. Quindi voi avete ascoltato una casta per creare, per riformare un settore ad immagine e somiglianza di voi stessi e di quella casta. Avete istituzionalizzato una casta occulta, ora l'avete istituzionalizzata mettendola a capo dell'unico gruppo bancario che nascerà, perché di fatto sarà uno solo, è inutile che ci raccontiamo le favole che potranno essere più gruppi bancari, ce ne sarà uno solo, una sola holding. E gli avete messo in mano tutto il potere, anzi, in realtà questo potere ce l'avevano già in mano, di fatto l'avete istituzionalizzato, l'avete reso legale, per legge, per decreto. Io, Presidente, mi scuso per non aver letto, magari forse serviamo un oratore un po' più, con una capacità di lettura un po' migliore della mia, ma spero che il messaggio sia arrivato e spero che possiate riflettere su queste parole. Grazie, signora Presidente. Nel giro, grossomodo, c'è di un anno, il Parlamento è chiamato ancora una volta a pronunciarsi e c'è su un provvedimento che riguarda il sistema bancario. E l'ennesimo provvedimento su cui il Governo pone all'attenzione del Parlamento. Noi abbiamo iniziato male, c'è questo approccio, con le necessarie eventualmente riforme da fare sul sistema bancario, che abbiamo iniziato con un decreto legge, che è arrivato di punto in bianco c'è un anno fa sulla riforma delle popolari.